Una metodologia non settoriale, ma inserita in un contesto di insieme per conoscere nel dettaglio lo straordinario ecosistema della riserva d'Annunziana Pescara, un gioiello naturale incastonato nella più vasta area urbanizzata della città. Di questo si sono occupati gli esperti dell'Associazione Ambiente e Vita, Lorenzo Di Liberatore e Silvia Di Paolo, coadiuati nella seconda parte da specialisti di fama nazionale come Francesco Pinchera e Mario Pellegrini per la faunistica e Tommaso Giallonardo per la floristica su commissione dell'amministrazione comunale di Pescara. Ebbene, ciò che emerge, in particolare per la faunistica, è uno straordinario e variegato mondo per certi aspetti inimmaginabile, se consideriamo l'entità tutto sommato limitata dell'area protetta. Quasi quattro scoiattoli per ettaro, ben tre specie di pipistrello, tra cui il serotino, specie in forte difficoltà, quasi a rischio estinzione. 48 specie di uccelli, tra stanziali e migratori, tra cui la nitticora, il martin pescatore e la tordella, specie queste di particolare prestigio. Va legata anche la presenza di rettili anfibi, tra cui il ramarro e la testugina americana. Individuata perfino la presenza di una volpe nei pressi del laghetto attraverso un'impronta riscontrata sul suolo. L'importanza di avere questi dati, di questa analisi, è che gli effetti dell'area possano permearsi anche al di fuori degli stretti vincoli, dello stesso perimetro dell'area vincolata. In questo caso, infatti, parlevamo della riqualificazione del Fosso Valle Lunga come ponte della riserva. Poco fa si parlava del sistema retrodunale, quale altro ponte estensivo della riserva, per capire, insomma, che se è possibile vivere quest'area non solo come un parco dove fare sport, ma anche prendere consapevolezza che si tratta di una vera e propria area protetta, con delle caratteristiche naturalistiche rilevanti, che meritano di essere considerate, tutelate, studiate e soprattutto vissute attraverso il contatto diretto con la natura. L'amministrazione è stata attenta e ha fatto bene i compiti a casa. Adesso dobbiamo continuare su questa linea, completare e dare nuovi studi, perché è proprio dalle competenze diverse, interdisciplinari, che si associano, che poi si possono dare dei risultati che sono risultati attendibili scientificamente.